Trovo che questi progetti, progetti come ABC, siano fondamentali perché entrano a scuola in una maniera diversa da quella normale, cioè dall'educazione frontale, si parla di educazione informale, entrano in gioco il cinema, la cultura, e nello specifico anche l'autismo viene raccontato in una maniera diversa dal solito. In più questi progetti danno l'occasione agli studenti di guardare oltre la scuola, di cercare magari il lavoro che vogliono fare, nello specifico del cinema per esempio, possono avere delle risposte dagli attori con cui sono entrati in contatto, dalle personalità che raccontano il loro lavoro, il loro mondo, e magari questa può essere l'occasione per capire dove gli studenti vogliono andare.